via di lille moto troppa lunga troppa lunga vai Nanu non è che te vai di una mano se no non come l'altra volta chi passa qua chi è passato qua dai di qui dai bravo destra destra ti devi creare una nicchia tipo la madonnina sotto qua via 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 quando l'aveva fatto il servizio la prima volta non l'avevo fatto più guarda, guarda su guarda, guarda su dove è su te? si, forse adesso io stavo di là perché non riesci a tirare vedi? sapevo che faceva così dai che devo salvare quella primola lì trappo lento grazie